Cari compatriote, cari compatrioti, in questo primo agosto 2021 ho il piacere di rivolgermi a voi dal massiccio di L'Ediable Ré, a quasi 3000 metri di altitudine. Ho scelto di parlarvi dal Canton Vaux perché è confortante poter celebrare la festa nazionale vicino alle proprie radici, ai propri cari, sentendosi a casa. Da qui mi sento vicino anche a tutti voi, posso vedere il passo del Sanecce e immaginare la sorgente verdeggiante della Sahin, un fiume che unisce più che dividere. Da qui posso anche scorgere il Canton Berna e il Vallese, altre regioni, altre lingue, altre mentalità, ma sempre lo stesso paese, la Svizzera, la nostra Svizzera. Come altri, il nostro paese ha dietro a sé lunghi mesi di pandemia. Rivolgo un pensiero commosso a tutte le persone che ne sono rimaste colpite, come a quelle che hanno lavorato senza tregua per combatterla. Esprimo tutta la mia vicinanza anche a chi ha sofferto per le recenti inondazioni e i danni causati dal maltempo. La mia riconoscenza va a tutti coloro che si questo periodo ci ha portati, volenti o nolenti, a dare prova di adattamento. Gli sforzi profusi dalla popolazione suscitano tutta la mia ammirazione, soprattutto in questo giorno in cui siamo chiamati a riaffermare i nostri valori fondanti e la nostra fierezza nazionale. La fierezza in Svizzera è un sentimento molto intimo che si esprime con discrezione. È un sentimento che recentemente ho avuto modo di condividere con voi più volte. A Ginevra, in occasione di un importante vertice internazionale. A Bucharest, durante una brillante prestazione della nostra nazionale di calcio. In fondo siamo felici e fieri per ogni prestazione, individuale o collettiva, che permette al nostro paese di avanzare sul cammino sempre precario del successo. D'altronde lo spirito di solidarietà propugnato dalla nostra Costituzione federale consiste sia nel gioire per le vittorie del prossimo, sia nel partecipare alle sue difficoltà. In sintesi, essere al suo fianco in ogni circostanza. La festa nazionale è un punto culminante del nostro anno civile e interrompe temporaneamente il ritmo folle delle nostre attività. È un'occasione per riflettere insieme sul nostro avvenire e per pensare meno al nostro destino e maggiormente a quello dell'intera società. La società nella quale evolviamo e al cui sviluppo, per quanto possibile, cerchiamo di contribuire. I frequenti contatti che ho con la popolazione mi dimostrano la sua determinazione. Malgrado il perdurare dell'epidemia, avvertono nel paese la voglia di tornare a vivere e impegnarsi attivamente. La Svizzera, è vero, non ha realizzato nulla senza averne i mezzi. Non ha mai basato il proprio successo sull'approssimazione, il caso, l'arroganza o la spavalderia. Anzi, il nostro paese è fondato sul lavoro, l'aiuto reciproco, il coraggio e l'ottimismo. Una ricetta comprovata da 730 anni di storia che, come in ogni altro stato, ha avuto alti e bassi, momenti buoni e cattivi. Sono convinto che questa ricetta varrà anche in futuro, a fronte delle impellenti sfide sanitarie, ambientali, sociali e geopolitiche che ci attendono. La nostra patria riuscirà ad affrontare queste sfide adottando una visione d'insieme, sostenuta dall'impegno civico di ognuno di noi e da quella creatività che la nostra democrazia diretta sa stimolare. I segnali di ripresa sono evidenti e le previsioni congiunturali fanno ben sperare. Occorre tuttavia tenere presente, come amano ricordare i saggi, che la meta del cammino è il cammino stesso. Percorriamolo dunque con passo sicuro, tappa dopo tappa, fiduciosi delle nostre risorse. Di cuore e con spirito sereno auguro a tutti voi di trascorrere una bella festa nazionale. Viva la Svizzera e lunga vita alle sue istituzioni!